Truffe, furti in abitazioni e altri reati predatori. Sono queste le tematiche degli incontri che la Polizia di Stato di Teramo, assieme alla Municipale di Pineto, terrà con la cittadinanza pinetese per sensibilizzare soprattutto le fasce più deboli su come difendersi dalla microcriminalità. Una serie di incontri nei quartieri della cittadina riverasca che si inseriscono nell'ambito del progetto Accendi una luce nel tuo quartiere. Prime due tappe già fissate, il 30 aprile nel quartiere Santa Maria della Valle e il 5 maggio a Borgo Santa Maria. Quella tra le forze dell'ordine e i cittadini è una collaborazione che deve essere sempre più stretta, ha sottolineato il questore di Teramo Giovanni Febo, che ha rimarcato anche come la provincia di Teramo, nonostante tutto, abbia bassi livelli di criminalità. Non ci possiamo lamentare, è chiaro che il nostro obiettivo è sempre ad abbattere ancora di più i reati. Come dicevo prima, ho fatto il raffronto tra i primi tre mesi del 2015 e quello del 2016, abbiamo un numero di furti inferiori di 250-259, di rapine più o meno sui 20-30, quindi non ci possiamo lamentare. È chiaro che dobbiamo sempre essere vigili e poi dobbiamo lavorare anche perché con la prossima stagione estiva, come dicevo, sui milioni di turisti che vengono. Certo, non è che sono tutti intenzionati a godere solo del sole, insomma. Purtroppo è una cosa che dobbiamo mettere in conto. Semplici ma efficaci i consigli contenuti in una brochure predisposta dalla polizia e che sarà consegnata ai cittadini. Spesso la delinquenza comune usa stratagemmi che possono essere disinnescati con piccoli accorgimenti. I consigli saranno molto semplici, del tipo di chiudere la porta a chiave con doppia mandata perché purtroppo non basta chiuderla con una sola. Quello chiaramente è di allertare sempre le forze dell'ordine se si presenta un impiegato dell'Enel o anche un polliciotto in borghese che magari gli chiede di fare qualche verifica all'interno dell'appartamento e in generale comunque di stare attenti e chiamarci sempre per ogni accertamento. Non disturbano il nostro lavoro, quindi veniamo molto volentieri.